Tra due incontri inizieremo semi-contact a squadra. Semi-contact per team. Si preparino gli atleti di semi-contact iscritti al campionato squadra. Si preparino il Tadami 1 per la gara di grappling. Simone Maggio contro Gavino Masco. Flippare le porto per team. Flippare il Tadami. E la sua parte. Flippare il Tadami. Flippare il Tadami. Iniziamo illamato para il contrario si versate, il problema è deciso c scherzo Xero Buon appetito! Voilà La Coupe La Coupe Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.